ciao a tutti bentornati sul canale buongiorno questo video voi chiederete perché cosa c'entra con il detailing visto che non parlerò di detailing ma di un'altra cosa c'entra perché adesso capirete prima che inizino poi le polemiche sul fatto di come sono vestito visto che la stessa cosa era successo con il video di Ema questo è la mia azienda io sono regolarmente vestito così e il video che sto facendo lo sto facendo nel mio posto di lavoro quindi non ho possibilità di cambiarmi e farlo un altro e poi non è una cosa che comunque a cui neanche avevo mai pensato al di là di tutto il video in questione è dedicato a Rolando Pelizza che purtroppo qualche giorno fa ci ha lasciati e con grande rammarico quando ho saputo la notizia mi è dispiaciuto davvero davvero tanto ho deciso di fare questo video dopo qualche giorno perché ho voluto prendermi un attimo di tempo perché cosa c'entra la GM detailing con Rolando Pelizza che poi adesso capiremo anche chi era Rolando Pelizza perché la GM detailing nel 2019 aveva programmato una conferenza internazionale sul caso Ettore Majorana a Rolando Pelizza ci abbiamo lavorato un anno la conferenza si sarebbe dovuta svolgere a maggio del 2020 infatti il titolo era 2020 l'anno della svolta Majorana e Pelizza purtroppo poi è arrivato il Covid e non abbiamo più potuto realizzarla e avremmo aspettato la fine di questa pandemia maledetta per poterla riproporre la conferenza era stata organizzata da me e attraverso la mia azienda GM detailing che era diciamo lo sponsor primario di questa conferenza questo perché? perché la GM detailing ci ha sempre tenuto al discorso del clima a cercare di creare sempre prodotti più green o perlomeno utilizzare prodotti sempre più green e visto che Rolando Pelizza e Majorana hanno lavorato una vita per la creazione di questa macchina per poter salvare l'umanità da questo problema del clima ci è sembrato giusto fare questa cosa attraverso la nostra azienda detto questo chi era Rolando Pelizza lo potete non posso fare un video molto lungo per spiegarvi tutto però vi posso dire che potete andare a vedere la sua storia sia su Youtube se ne è parlato in diversi modi però la parte più autorevole dove questa storia è stata resa pubblica è stata attraverso il giornalista Rino Di Stefano in cui ha creato praticamente ha seguito tutta la vicenda ha realizzato un articolo diversi anni fa e voi potete seguire attraverso lui tutto quello che è stata questa storia oppure attraverso i libri fatti, realizzati dal cugino Alfredo Ravelli attraverso queste due persone potete vedere tutta la storia di chi era Rolando Pelizza io ho avuto modo di conoscerlo personalmente, di parlarci, di stare con lui diversi giorni abbiamo incontrato persone, li ho fatto incontrare persone per cercare di aiutarlo per portare alla luce diverse cose attraverso la macchina che lui ha costruito purtroppo un po' al Covid e poi adesso purtroppo è venuto a mancare e questa cosa davvero mi dispiace molto mi dispiace perché Rolando era una gran persona, una gran brava persona a livello umano, a livello umano era una persona buona, umile, semplice che ha sofferto perché ne ha passate davvero di tutti i colori adesso sicuramente dopo la morte usciranno un po' di sciacalli arriverà gente che vorrà cercare di carpire i segreti della sua storia di quello che ha fatto, della macchina di Majorana gente che magari dirà che era amico suo ma magari non l'ha mai incontrato e quindi a un certo punto ho detto speriamo che non succeda speriamo che non succeda perché non se lo merita adesso è il momento un attimo di lasciare perdere purtroppo il fatto perché è morto perché sapete che è morto di Covid se non lo sapete ve lo dico io purtroppo quindi questo male ha portato via anche lui al di là di questo io ci tenevo a salutarlo e a dire che questa sua morte comunque non sarà la fine della sua storia e neanche di quello che lui per anni, per tutta la vita ha cercato di portare avanti perché la conferenza la faremo comunque appena finirà questa pandemia la riproporremo io, Rino Di Stefano, giornalista la riproporremo e inviteremo persone che erano già state invitate allora come fisici o come persone che comunque hanno seguito in prima persona la storia e ne parleremo ne parleremo in maniera seria in maniera con documenti alla mano perché i documenti esistono sono stati periziati sono stati verificati quindi la sua storia non morirà con lui e quindi ci tenevo a dire questa cosa poi volevo anche ringraziare pubblicamente come ho già fatto anche in privato anche Omega Click perché attraverso il suo canale anche lui è stato uno dei pochi che ha affrontato la storia in maniera seria ha fatto un video dedicato alla storia di Majorana e di Pelizza di Rolando Pelizza in maniera molto accurata e molto seria per cui lo ringrazio anche pubblicamente e Rolando a lui l'ho già detto in privato più di una volta ne abbiamo parlato di Omega e lo apprezzava molto gli piaceva come persona perché aveva trattato l'argomento senza prenderlo in giro in maniera seria quindi anche questo video lo dico anch'io è così mi dispiace davvero tanto che sia mancato perché aveva tanto da dare aveva tanto da dare a questa società a questo maledetto non so che cosa ci sia dietro io non posso dirlo perché non lo so però il clima sta cambiando e questo ce ne siamo accorti tutti quindi dobbiamo sbrigarci non abbiamo tempo e lui l'ha sempre detto a gran voce ai governi agli Stati Uniti al Belgio al governo italiano perché tutti sanno ma tutti tacciono e invece questo clima ormai è sotto gli occhi di tutti che sta cambiando dobbiamo fare qualcosa noi nel nostro piccolo lo facciamo nel nostro lavoro utilizzando prodotti sempre meno aggressivi per cercare comunque di essere sempre più green anche con le nanotecnologie e tutto quello che possiamo motivo per cui la GM Detailing facendo comunque un lavoro particolare si era allacciata a questa cosa e quindi aveva cercato di realizzare una conferenza per poter parlare di queste cose sì purtroppo non abbiamo potuto farla come vi ho già detto ma la faremo la faremo perché è giusto portare avanti questa storia nel nostro piccolo con quello che abbiamo in mano io non ho visto grandi cose su internet del fatto che lui sia morto sembra sì va bene un lato giustamente anche la famiglia avrà la sua privacy ed è giusto che viva questo dolore nel silenzio però siccome Rolando è un personaggio conosciuto da tantissime persone ha incontrato politici ha incontrato persone che hanno fatto la storia poi anche della nostra Italia ma se tu guardi su internet non c'è niente e questo un po' mi è dispiaciuto mi è dispiaciuto io che l'ho conosciuto ho avuto modo la fortuna li conoscono attraverso Rino Di Stefano comunque quindi se volete sapere di più sulla storia di Rolando e non fare morire questa sua storia andate a cercare le cose serie su Rolando Pelizza attraverso il suo sito ufficiale Maiorana Pelizza attraverso quello che Rino Di Stefano ha fatto negli anni e questa inchiesta o attraverso anche i video che aveva realizzato Omega Click perché sono tra virgolette le uniche cose serie che si vedono su internet quindi libri quello che potete vedere e poi prendete voi quello che ritenete in maniera più seria e più dettagliata senza andare nel complottismo ecco io ho voluto realizzare questo video tanto per salutarti Rolando perché mi ha fatto davvero piacere conoscerti quando eri in vita mi è dispiaciuto davvero di averti perso anche se ultimamente non ci sentivamo tanto perché comunque un po' il covid un po' non abbiamo più potuto incontrarci un po' perché ognuno ha le sue cose anche da fare nella vita però è stato un onore per me conoscerti questo lo dico adesso se sei lassù mi potrai sentire e poi perché ripeto non voglio che questa storia muoia quindi la GM Detailing o me come Mauro Fantini porterà avanti comunque ancora la possibilità di realizzare questa conferenza ne parleremo e questa storia non morirà con te questo te lo prometto per quello che possiamo fare io vi ringrazio lo so che non c'entra niente con il video che faccio di solito sul Detailing però ci tenevo a salutare Rolando a dargli l'ultimo saluto non ho potuto andare al funerale perché non me la sono sentita da un lato un po' per il covid un po' perché quel giorno c'era una nebbia che è importante anche se non siamo distantissimi ma dove è chiari non sono vicini però non me la sono sentita al 100% purtroppo con questa maledetta pandemia e dicevo ho voluto realizzare questo video per dare un po' di spiegazioni del perché appunto ho voluto realizzare e parlare di Rolando io vi saluto vi ringrazio di avermi seguito se deciderete di vedere questo video ciao Rolando adesso sicuramente sarai in pace nessuno ti tormenterà più e forse da lassù magari potrai aiutarci per chi crede nell'aldilà potrai aiutarci aiutare noi poveri esseri umani a fare in modo che questo clima non distrugga per sempre il nostro habitat ciao al prossimo video grazie